Signore, io recarò le tue leggi al tuo popolo. Uditemi! Ehi, uditemi! Prestate orecchio! L'Eterno, il Signore, mi comanda di recarvi questi quindici... ...dieci! Dieci comandamenti, cui dovrete obbedire! Da Woody Allen ai fratelli Marx fino a Mel Brooks, il popolo ebraico vanta una lunga tradizione nel campo dell'umorismo. Forse perché ridere e far ridere gli altri resta una delle armi più efficaci per non arrendersi nei momenti difficili. E la risata, pacifica e vincente, è sempre mal vista dalle dittature e dalle tirannie di ogni tipo. Proprio all'umorismo è dedicata la tredicesima edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, che si svolgerà domenica 2 settembre in 28 paesi dell'Unione e in 64 località italiane. In Toscana, porte aperte e visite guidate alla sinagoga e ai luoghi ebraici a Pisa, Livorno, Firenze, Pitigliano, Monte San Savino, Via Reggio e Siena. La manifestazione propone un programma ricco di iniziative, tra mostre e concerti, enogastronomia e film, spettacoli teatrali, eventi per grandi e bambini. Gli ebrei hanno vissuto epoche lunghissime di difficoltà di vita nell'ambiente dove si trovavano, dagli estremi peggiori, ma anche nella vita normale ci sono sempre state delle difficoltà. Basta pensare che dal Cinquecento in poi era limitata la loro attività lavorativa, tanto per dirne una. e la faccia umoristica, la faccia di sorridere sulle proprie disgrazie e vedere le cose da un lato positivo è stata un po' una continuazione, un leitmotiv che li ha accompagnati nei secoli. Qui a Firenze ci sono un sacco di eventi, no? Ce ne puoi riassumere un po'? Beh, diciamo, quando si parla di umorismo il primo pensiero sono le barzellette e quindi c'è la presentazione di un libro di barzellette. Cosa un po' rara perché di solito i libri sull'ebraismo parlano di cose tristi, cose tragiche, romanzi e quindi questo è il libro di barzellette. Cinema. Il cinema è popolato di moltissimi attori, registi, scrittori ebrei dai fratelli Marx a Udi Halle, intanto per dire due nomi che tutti conoscono. Anche a Firenze, a Siena e anche a Monte San Savino che fa parte del nostro territorio ci sono delle sale cinematografiche che proiettano questi film. Da segnalare a Pitigliano, in provincia di Grosseto, la visita al ghetto con degustazione di prodotti tipici come il pane azimo e gli sfratti, dolci al miele e noci. In occasione della festa del vino che si tiene proprio in quei giorni si potranno assaggiare i vini kasher dell'Associazione La Piccola Gerusalemme all'interno delle cantine scavate nel tufo. Inoltre il 2 settembre sarà proiettato in tutte le comunità ebraiche d'Italia il video sul WITS, ovvero la particolare ironia ebraica realizzato dalla società Frankenstein di Firenze, che illustra anche attraverso capolavori del cinema e della letteratura cos'è e come funziona lo spirito ebraico. Abbiamo realizzato questo video cercando di declinare l'umorismo ebraico in tutte le sue sfumature. Abbiamo intervistato esperti, abbiamo parlato con rabbini, abbiamo parlato con psicologi e antropologi. e il tutto intervallato da alcune sequenze di brani famosi di film, di opere teatrali. Il tutto per avere confezionato un prodotto che fa ridere ancora prima di noi stessi, ridere di noi stessi è un po' la nostra prerogativa, ancora prima di ridere insieme agli altri.